Musica Tanti like per capo bassone, aga 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 Cari amici, cari bambocci ma soprattutto, care sorelline in calore Siamo di nuovo qui con il top del top del top Cioè Red Dead Redemption 2 Gioco superiore a qualsiasi altro prodotto mai pensato e mai creato Dall'umanità Allora vi sono mancato eh bambocci Bambocci vi sono mancato Sono sicuramente mancato a molti di voi Anche agli haters soprattutto Ma io sono sempre qui E ovviamente come al solito Ho sempre ragione Cos'è che io ho? Ho sempre ragione Cosa avevo detto nel video precedente eh Vi avevo detto ragazzi per 4-5 giorni non sarò presente Causa vita sociale e impegni E sicuramente quando io non sono presente Esce il trailer Tac E' uscito il trailer Io ho sempre ragione come al solito Tac E quindi non vi ho potuto fare video Non vi ho potuto fare niente eccetera eccetera Comunque l'avete già visto anche voi Gli occhi ce l'avete anche voi E' stato un'emozione fantastica vedere la prima persona Usare il fucile a canne mozze E' stato bellissimo vedere di nuovo le scene della neve Con la neve dinamica che si sposta lateralmente Man mano che il personaggio cammina E anche con esso il cavallo E anche con essi i vari animali I vari NPC e tutto il resto E' stato fantastico Ma oggi vi voglio portare Le cose più assurde Che sta creando Red Dead Redemption 2 Perché? Cosa vuol dire? Vuol dire che L'hype per Red Dead Redemption 2 Sale man mano che passano i giorni Adesso mancano 22-21 giorni E l'hype è altissimo Quando ne mancheranno 15 Sarà ancora più alto Quando ne mancheranno 10 Ancora più alto eccetera eccetera E la gente sta svalvolando di cervello Ok? Perché molti mi dicono Eh ma tu ogni sera fai vedere Fai vedere il countdown Fai vedere le foto Ti ecciti Lo sopravvaluti Ma se poi fa schifo Se poi te ne penti Io non faccio niente Perché quello che state per vedere Vi farà sconvolgere la mente Perché c'è gente che fa Centomila volte quello che faccio io Io sono una leggera puntina di hype Ma proprio leggera State attenti a quello che fa la gente Ma prima di iniziare Vi devo far vedere solo questo piccolo screen Tratto dal canale Rockstar Games Italy Il canale ufficiale nella versione italiana di Rockstar Games Dove io ho scritto il mio commento E potete vedere tra tanti haters, ciucciacazzi Ma anche dei fans della gente intelligente Chi comanda ancora su questo sito fognatura Chiamato YouTube Italia Potete vedere il mio screen Vedete il mio commento che ha 235 like E 111 risposte all'attivo Mentre abbiamo un altro esponente della community italiana Di merda Che ha praticamente gli stessi like Ma 19 risposte Sarà mica che gli utenti Saranno un po' più maturi da me E un po' più bimbi minchia da altri Chi lo sa, chi lo sa Ma chi è che comanda sempre su YouTube Italia? Bastone J Il comandante che vorrei E io sono sempre qui con voi Allora partiamo subito Partiamo subito Partiamo subito con gli screen Allora questo primo screen Che vedete È un autobus normalissimo E il ragazzo che ha fatto la foto L'ha voluta mostrare al mondo L'ha voluta mostrare su Reddit Infatti tutto quello che vedrete da qui in poi Sarà preso da Reddit Una roba pazzesca Non potete neanche immaginare Iniziamo prima con le cose leggere Come l'autobus Guardate che figata Poi come seconda foto Abbiamo un bel treno Griffato Red Dead Redemption 2 Con l'immagine di Arthur Morgan Il logo Red Dead Redemption 2 E Outloves for Live Fuorilegge per la vita Immaginate che spettacolo Sarebbe vedere questo treno sfrecciare Nella vostra città Ma ovviamente in Italia Manco po' cazzo Passiamo alla prossima Questo è un cartellone Preso da Tokyo Perché anche a Tokyo Nel sollevante Stanno attendendo Red Dead Redemption 2 Perché anche lì sono furbi E quindi dicono Cazzo la qualità Qualità paga Qualità qualità Quindi anche lì Stanno attendendo Il top del top Poi abbiamo che Ci sono alcune persone Come i camionisti di Taiwan Questa immagine Tratta da un camion di Taiwan Che ha griffato il parafango Con l'immagine Appunto di John Marston Con un cowboy Vedete Tutte e due i parafanghi Cioè allucinante E poi dite a me Che io metto il countdown Pure i camionisti Sono in preda All'hype Per questo titolo Mastodontico Passiamo al prossimo Questa è una fermata Dell'autobus di New York E anche qui Abbiamo un altro cartellone Pubblicitario Di Red Dead Redemption 2 Passiamo poi Ovviamente al sito Che neanche vi nomino Perché lo conoscete tutti A prima vista L'avete già Indovinato Sicuramente E in questo sito Chiamato Pornhub Ma tanto lo diciamo Solo perché Così per Per informazione Per quei pochi Che non lo sappiano Ma tanto lo sanno Lo stesso Fanno finta di no A mio cugino Ci è andato una volta Quindi me lo ricordo Che dice Quanto hype avete Per Red Dead Redemption 2 Tutto questo Sotto un video porno Cioè immaginate voi Che roba E uno dice Non ho mai giocato A Red Dead Redemption Ma l'hype È veramente alto E sembra veramente figo Tutto questo Sotto un video porno Poi passiamo A un altro Cartellone pubblicitario Questo è di grandezza Mastodontica Sarà costato almeno 15.000 Se non 20.000 dollari Ma come minimo Come minimo Guardate che roba E il ragazzo Che fa la foto Abita proprio Lì davanti A questo palazzo E ogni giorno Ha fatto le foto Di come Stava venendo Quindi magari Il primo pezzo Ha fatto le foto Il secondo pezzo Ha fatto le foto Il terzo Ha fatto le foto Questo è il sesto Settimo pezzo In cui ha fatto le foto E c'è anche la versione completa Di tutte le foto Nei vari step Di creazione Quindi immaginate voi Che poi mi dite a me Che io ho l'hype In corpo Io non ho niente In confronto Poi abbiamo i pre-order Anche qui in un negozio Già pronti Con le copertine Eccetera eccetera E questa è una immagine Emblematica Guardate questo televisore Questo tizio Che ha fatto la foto Possessore di Xbox One X E console superiore Ha un amico Il suo migliore amico Che sta per partire Per il North Carolina Si è trasferito A vita E allora Ha deciso Questo suo amico Di regalare a lui Il televisore Full HD 4K 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 Da 6TB 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 Ci da Le notizie Con il contagoccio E noi beviamo Lo so E quindi potete vedere Che anche qui L'hype è altissimo Si è fatto addirittura I quadretti Di John Marston E di Arthur Morgan Comodamente fissati Sulla mensola Passiamo al prossimo Questo è un piton È un programma Di Di linguaggio Per programmare In una forma Di linguaggio E questo ragazzino A scuola Invece di programmare Quello che la maestra Le ha detto di fare Lui Invece Programma Con la frase Di Arthur Morgan Nel trailer Cioè You got money For me boy Quindi Praticamente Sta utilizzando Il programma Per fare La frase Di Arthur Morgan Qui la follia È alle stelle Poi passiamo A questa Immagine Che è bellissima È praticamente Un'immagine Di un tizio Questo è un meme Famosissimo Lo conoscete tutti Di un tizio Con la ragazza Mano nella mano E lui si gira A fischiare A quella vestita di rosso In questo caso Il tizio ha Giochi del calibro Di Black Ops Tomb Raider Spider-Man Assassin's Creed Odissei Fallout 76 Hitman Forza Horizon Super Mario Bros Ma lui si gira A vedere Il top Del top Del top Poi Andiamo alla prossima Questo è un tizio Fenomenale Che se io lo conoscessi Gli stringerei la mano È ovviamente Un grandissimo possessore Di Xbox One X Console Superiore Poi Ha messo Una bottiglia di whisky Una fiaschetta Di whisky Una pistola La stella Da sceriffo Ed è pronto a giocare Al top Del top Del top Con tanto di cappello In alto A destra Poi passiamo Al prossimo Cartellone pubblicitario Ad angolo Molto bello Che si trova A Berlino Infatti anche L'Europa Sta per essere Scopata a sangue Da Red Dead Redemption 2 Poi guardiamo Questa Targa Dell'Arizona Highway Fatta Apposta Per Red Dead Vedete che figata Marchiata Apposta E infine Quando io vi dicevo Ragazzi Natale Quest'anno Sarà il 26 ottobre E voi mi dicevate Ma che cazzo dici Veramente C'è gente che lo pensa Perché guardate Cosa ha fatto sto tizio Ha fatto il calendario Dell'avvento Di Red Dead Redemption 2 Con ogni giorno Un personaggio diverso Della banda Di Vanderlinde Quindi si parte Da Dutch Per poi andare A Molly Per poi andare A John Per poi andare A Abigail Per poi andare Ad Arthur Morgan E infine Il 26 Con l'uscita Del top Del top Del top Quindi cari amici Come potete vedere Il mio hype In realtà Non è nulla In confronto Alla follia Di tutte queste persone Ora vi saluto Presto nuovi video Tanti cari saluti Mettete like Iscrivetevi Al canale Twitch Canale Superiore Dove tutte le sere Farò le live E farò anche le live Del top Del top Del top E ci ribecchiamo Al prossimo video Tanti like Per capo bassone Aga gagaga